Benvenuti in Competere News Economia, in 5 minuti i principali fatti della settimana che dall'Italia e dall'estero ci entrano nelle tasche, nessun taglio per quota 100 e per reddito di cittadinanza, lo dice il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Per il Presidente del Consiglio nel documento di Economia e Finanza ci sarà anche un notevole taglio della spesa. Sul debito del Paese interviene però il Presidente della Banca Centrale Europea. Per Mario Draghi la riduzione del debito deve essere più sostanziosa e più credibile. Sulla ipotesi governativa dei minibot Draghi aggiunge che se sono valuta sono illegali, se sono debito, lo stock del debito del Paese cresce. La Banca Centrale Europea terrà invariati i tassi di interesse almeno fino alla seconda metà del 2020, lo dice l'Istituto di Francoforte in una nota ufficiale. La Banca Centrale Europea per dare ossigeno alle banche lancia un nuovo maxiprestito. I nuovi prestiti erogati dalle banche a livello nazionale potranno beneficiare di un tasso di interesse tra virgolette rilassato, ossigeno per i consumatori che intendono accendere un mutuo o ottenere un prestito. Per ConfCommercio il governo deve eliminare l'aumento dell'IVA, altrimenti sarà alto il rischio di crescita zero, lo ha detto il Presidente di ConfCommercio Carlo Sangalli. L'aumento dell'IVA dice Sangalli né oggi né domani né mai. Per l'Istat l'attività economica del Paese resta moderata, a frenare la potenziale ripresa all'incertezza politica e la guerra dei Dazi USA-Cina. E sulla guerra dei Dazi USA-Cina interviene il Fondo Monetario Internazionale. Per la Presidente Christine Lagarde questa guerra costa lo 0,5% del PIL a livello mondiale. I fatti della Regione Campania, caso Whirlpool, continuano all'agitazione di circa 500 lavoratori a rischio posto di lavoro dopo la decisione aziendale di chiudere lo stabilimento di Napoli. L'avvertenza è all'attenzione del Ministero dello Sviluppo Economico presieduto da Luigi Di Maio. In Campania potrà nascere la Casa del Design, progetto presentato dalla Regione Campania. Il Presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca, ha illustrato in una conferenza il nuovo progetto di legge a tutela del territorio campano. Universiadi è partito il Tour della Torcia Olimpica. Tra i tedofori anche i ragazzi di Scampia, un quartiere di Napoli. Il Tour della Torcia è interamente scaricabile dal sito della Regione Campania. L'evento partirà il 3 luglio e coinvolgerà 9 mila atleti provenienti da tutto il mondo. Ciberbullismo parte il piano di intervento approvato dalla Giunta Regionale della Campania, il provvedimento che prevede una dotazione di circa 200 mila Euro per i progetti che potranno essere presentati da comuni e associazioni. Sul sito della Regione tutti i dettagli. Piano di protezione civile dei comuni. Pubblicato sul BURC della Regione Campania, il decreto che destina alla misura 4,8 milioni di Euro per circa 135 comuni della Regione Campania. Anche in questo caso tutte le notizie sul sito della Regione. Il Museo dell'Arte Sanitaria Campana sbarca a Matera nella rassegna storia, economia e politica sanitaria del nostro Paese. Il tutto per omaggiare Matera, capitale internazionale della cultura 2019. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Aggiornamenti sul sito Compatera Journal. Arrivederci.